buongiorno a tutti benvenuti alla sezione numero 5 ultima sezione lezione numero 2 la sezione 5 come le altre volte parliamo un po sezione 5 parliamo un po vediamo ora rispondi alle mie domande rispondi alle mie domande vediamo io dico ciao che cosa studi ciao che cosa studi e tu rispondi studio bla 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 e tu ciao che cosa studi ok ora prossima domanda io ingegneria perché studi italiano ingegneria perché studi italiano studio italiano per ingegneria perché studi italiano dove abiti dove abiti abito a dove abiti abito a qual è il tuo indirizzo qual è il tuo indirizzo il mio indirizzo è ancora ciao che cosa studi ingegneria perché studi italiano ingegneria perché studi italiano dove abiti qual è il tuo indirizzo ok va bene ora tu fai a me le domande fai a me le domande io rispondo sono in italia per studio sono in italia per studio perché sei in italia sono in italia per studio studio medicina studio medicina studio medicina che cosa studi studio medicina abito a roma abito a roma abito a roma abito a roma dove abiti abito a roma ultimo il mio indirizzo è via orvieto 25 il mio indirizzo è via orvieto 25 qual è il tuo indirizzo il mio indirizzo è via orvieto 25 molto bene ora in questa lezione abbiamo imparato che cosa parole espressioni studio lavoro turismo amore studio lavoro turismo amore e inoltre espressioni come matematica fisica giurisprudenza economia ingegneria architettura chimica medicina matematica fisica giurisprudenza economia ingegneria architettura chimica medicina inoltre abbiamo visto un po di grammatica ad esempio il verbo abitare abitare io abito tu abiti io abito tu abiti il verbo parlare io parlo tu parli attenzione abito abiti parlo parli studi e inoltre il verbo studiare e inoltre il verbo studiare io studio e tu studi possiamo notare una cosa molto velocemente io abito io parlo io studio tu abiti i li studio i ok infine abbiamo visto un po di funzioni comunicative come ad esempio perchè sei in Italia? sono in Italia per studio perché sei in Italia? sono in Italia per studio e che cosa studi? io studio architettura che cosa studi? io studio architettura e in ultimo qual è il tuo indirizzo? il mio indirizzo è via tiportina 15 qual è il tuo indirizzo? il mio indirizzo è via tiportina 15 molto bene la lezione è conclusa grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima lezione ciao